E' stata l'Edison S.p.A. a inquinare i bussi e ora dovrà pagare la bonifica. E' quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, che ha quindi smontato il ricorso dell'azienda. I giudici romani hanno così confermato la decisione della provincia di Pescara, identificando Edison quale responsabile del disastro ambientale, che si è perpetrato almeno dagli anni Sessanta, seppur allora la società si chiamava MontEdison. Nel 2010 il governo aveva stanziato 50 milioni per la bonifica e la reindustrializzazione del SIN, il sito di interesse nazionale, somma anticipata dallo Stato in attesa dell'accertamento delle responsabilità. Nel 2018 era stato svolto il bando per affidare i lavori, ma da allora si è temporeggiato e i lavori non sono mai iniziati, con il rischio di dover anche risarcire chi quel bando lo aveva vinto. Ora che la competenza della bonifica, e non solo della bonifica, ma anche della misa, cioè delle misure di messa in sicurezza dell'aria, e di Edison, quei 50 milioni, diventati nel frattempo 48, potranno essere utilizzati per la reindustrializzazione di altre aree del SIN. Quello che dovrà fare la Commissione d'inchiesta regionale e anche i parlamentari è fare in modo che quel capitolo speciale di 48 milioni non venga distratto per altre esigenze. Quella di ieri è una sentenza importante, ma i tempi non si sono assolutamente accorciati. Naturalmente ci sarà bisogno della predisposizione di un progetto che adesso dovrà essere fatto naturalmente da Edison e questo progetto poi dovrà essere rimesso al MAT, cioè al Ministero dell'Ambiente, che lo dovrà naturalmente approvare e poi dovranno iniziare i lavori. Non si sa quindi quando inizieranno i lavori, né tantomeno quando sarà completata la bonifica delle tonnellate di piombo, mercurio e altre sostanze tossiche interrate. Eredità di oltre un secolo di industrializzazione che fa dell'area metropolitana di Pescara la zona abruzzese a più alto tasso di tumori riconducibili all'inquinamento. Il costo dell'intera bonifica è stimato tra i 300 e i 400 milioni di euro. Le potenze economiche che abbiamo di fronte, in questo caso a Edison, spaventano, ma è importante che tutti gli abruzzesi sentano proprio questa battaglia non soltanto quando c'è da festeggiare per una sentenza, ma anche quando c'è da lavorare per ottenere un risultato. Esulta la 5 Stelle Sara Marcozzi, secondo cui adesso i lavori non hanno più motivo di essere ancora rimandati per rimpalli di responsabilità. Soddisfazione anche da parte del WWF, che ora chiede un'indagine epidemiologica più approfondita per far luce sull'incidenza dell'inquinamento sulla salute pubblica. Di sentenza storica parla Maurizio Cerbo, che però non abbassa la guardia. È noto che la società vorrebbe fare un suo piano di tombamento per ridurre i costi, ha dichiarato il segretario di Rifondazione Comunista. Evitiamo i trucchi della politica a favore di Edison. Intanto dovrà anche essere individuato un nuovo presidente della commissione d'inchiesta, posizione resavagante da quando Giovanni Lenini è stato nominato commissario per la ricostruzione del centro Italia. Ma al momento queste attività del Consiglio regionale sono sospese a causa dell'emergenza coronavirus.